maratona delle dolomiti il giorno prima della partenza un tema importante quest'anno quello dell'equilibrio e anche del risparmio energetico si partiamo per la 32esima edizione e dopo temi così alti così assoluti così vicini al divino quale l'amore quale il perdono cosa un essere umano quando non possiede più niente può solamente più donare ecco il perdono più alto ed ecco l'amore no bellezza suprema ma sono temi importanti alti alti e quindi quest'anno volevo partire una cosa un po più diciamo umana ecco perché tutti nasciamo umani però a rimanere umani ci si tenta e quindi volevo una cosa che fosse un po più soggettiva e quindi l'equilibrio l'equilibrio che quindi è soggettivo che cos'è io non l'ho capito anzi mi sono fatto un'idea ma non ho la certezza sono un uomo da mille dubbi il loro equilibrio e la loro salute platò siamo tutti davide cassani una giornata finalmente con il polisole e il caldo finalmente arriverà una giornata splendida sole caldo 10 mila grazie con il polisole e il caldo Grazie Bravo, 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 bravo Grazie Grazie